ciao a tutti ragazzi io e Piccettino siamo qui per portarvi in un piccolo grande traguardo di storia dilaniata cioè il 450esimo numero di Tilan Dog shock shock de nome de fatto se posso essere onesto però shock positivo andiamo con un rigoroso disordine 4,90 euro il prezzo 28 febbraio 2024 data d'uscita 98 pagine classico Tilan Dog che da tanto tanto tempo tanto tempo ci sta ci accompagna in edicola eh tanta roba ragazzi io partirei subito spezzando una lancia così ai Cestaro Brothers che fanno una copertina che non lascia spazio a a interpretazioni varie cioè Tilan che scopre in uno scantinato cadaveri appesi fine con la scelta di dare luce di dare un po' di colore con il sangue delle vittime e la camicia di Tilan il resto è una penombra un grigio solo con la lama di luce che arriva dal che arriva dalle scale che io mi immagino chiudendo la porta a vedere sotto quella lama di luce perché è chiuso dentro deve essere una roba ancora più inquietante cioè davvero ragazzi bellissima con questi tubi corde che pendono che danno anche l'idea di un disordine quasi di uno squallore se volete quindi non è il se la chiedere metodico che mette tutti appesi come il bucato ma è una roba più quasi più 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 è più da macelleria proprio non saprei come dirlo e ragazzi è tanta roba è una copertina semplice ma d'impatto è una copertina che potreva stare anche nelle versioni l'audiovilla quindi nei primi 40 ma anche stanno quindi nei primi 100 stanno andando molto oltre però visto che c'è la mania dei primi 100 quindi è una copertina che avrebbe potuto rimanere più o meno anche in quel range segnatevi questa cosa che è importante quindi davvero promossa al 1000x1000 complimenti ai Cestaro pubblicità del scusate il color mi è rimasto qui pubblicità del color fest e poi arriviamo al Dylan Dog Horror Club dove Barbara Baraldi lo firma come giusto che sia da curatrice e da autrice quindi da curatrice e da autrice ci porta il il suo parere ci porta dei riferimenti col Barbablu di Perrault e compagnia Bristola sul discorso come posso dire sul discorso reference di questo di questo albo poi io vi ho sempre detto quanto mi piace il suo modo di fare nel dare spazio anche agli altri collaboratori quindi troverete anche l'intervento di Nicola Amari che ci spiegherà qualcosina di questo lavoro mi piace moltissimo questo interscambio è una cosa bella perché Dylan è sì Dylan Dog il prodotto che noi andiamo a comprare ma è un ensemble di lavori ci sono persone che si sono unite per costruire questo albo e quindi mi è piaciuto mi piace il fatto che venga dato lo spazio un po' a tutti ed è una cosa che mi piace tantissimo ovviamente abbiamo anche dei riferimenti ad alcuni adattamenti di fiabe io non sono un cinofilo cinefilo cinefilo cinofilo beh insomma quello che ama il cinema fondamentalmente un cinefilo cinofilo cane e cinema poi non mi ricordo quale uno e quale l'altro scegliete voi quindi io in compagnia dei lupi non l'ho visto il racconto dei racconti non l'ho visto Gretel e Ansel non mi ricordavo Ansel e Gretel però scusate però alla fine va bene anche così magari mi metto in lista di recupero è sempre carino avere qualche reference di questo tipo andiamo ora alle bombe grosse bomba numero uno Nicola Mari che si mostra in tutto il suo splendore ragazzi un Nicola Mari che è un mare di china come suo solito ragazzi come potete non non amare Nicola Mari scene splatter non buttate a caso ma ragionate dei flashback che mi riportano a un mare leggermente diverso da quello a cui siamo abituati quindi con delle sfumature non semplice mare di china semplice sempre tra virgolette personaggi riconoscibilissimi un Dylan gotico quanto basta ma ancorato alla realtà perché questo è un album molto reale molto molto reale le scene sono perfette c'è la claustrofobia c'è la pazzia c'è la dolcezza l'ultima tavola io non ve la metto ma è qualcosa che che dice tanto ma davvero tanto guardatevi le tavole che scorrono e provate a dirmi che Nicola Mari non è garanzia di un buon prodotto io mi sentirei di mettere questo accento quando nel tamburino vedete Nicola Mari sapete già che l'impianto grafico va dal 7 8 in su perché davvero non delude mai io non so come faccia probabilmente ha fatto un patto col diavolo per riuscire a essere sempre così in questi standard alti quindi complimenti a Nicola Mari la ciccia grossa la storia Barbara Baraldi non è un segreto che a me la sua gestione piaccia escludendo la copiata Roy Roy Recchioni che non ho trovato perfettamente centrata vi rimando alla recensione non una brutta storia ma qualche punto di domanda il rotante resto che fa parte della gestione Baraldi a me sta piacendo c'è una cosa che vi ho detto tante volte che è quella del mi sento a casa ebbene prima ancora di parlare della storia in sé vi dico una cosa questo Dylan è di quanto più il picco più vicino a ciò che Dylan è stato mi spiego peggio se fino ad oggi con Dylan potevo avere il dubbio se è un nuovo lettore magari compra il Dylan edicola magari perché gli ho fatto una recensione bella mi arrogo i diritti che non ho ok però ha fatto una recensione bella quello se lo compra poi magari va a comprare un vecchio Dylan perché sapete erano meglio i primi 100 e trova qualcosa leggermente diverso qualcosa di un po' più forse pendente da quella parte perché sono le letture storiche quindi le vediamo anche magari con un po' di soggezione magari diamo quel punto in più di soggezione non sto dicendo che sia sbagliato ma c'è anche questa cosa e quindi magari ne esce un pochino ridimensionato quello attuale questo Dylan Dog no io questo Dylan oggi più che mai vi dico non avete mai letto un Dylan Dog siete curiosi compratelo perché se voi leggete questo Dylan e poi andate a recuperarvi uno tra i primi 100 del filone indagatore giallo quindi serial killer quindi non vi sto dicendo di paragonarlo a Johnny Freak a lungo addio eccetera ma la versione serial killer non siamo ovviamente a memoria dell'invisibile che sta lì però ci siamo siamo a ruota tanti altri questo poteva essere tranquillamente il numero 15 di Dylan andava benissimo quindi davvero trovate questo Dylan cioè è proprio un Dylan intercambiabile è proprio un Dylan che vi fa respirare un'aria di Dylan Dog che fu questo è davvero un Dylan a posto non ci sono forzature una cosa che non mi è mai andata giù lo sapete sono le latizie con le chiappe al vento il motorino sotto il diluvio di qualche Dylan fa che secondo me stonava proprio un po' tutto il Dylan ecco cadute tra virgolette di stile come quella non ci sono qua sopra è un Dylan che funziona a tutto tondo come fosse un Dylan per me degli anni 90 di quando ho cominciato io mi sono trovato proprio lì quindi oggi più che mai vi dico volete leggere Dylan Dog voglio darvi un'idea di com'è un Dylan Dog compratelo fine perché ce l'avete avete l'idea precisa di com'è un Dylan Dog fine ovvio se poi il numero successivo che leggete è Johnny Freak ovvio che avete qualcosa di diverso se il numero che leggete dopo è lungo addio avrete qualcosa di diverso ma se state nel filone indagine serial killer escludendo ripeto il modern invisibile ci siete siete dentro nella canonicità diciamo dilaniata davvero ottimo lavoro poi non vi ho raccontato nulla dell'albo ve lo racconto adesso l'albo è una classica caccia al serial killer con un inizio un po' particolare perché è quasi casuale l'inizio Dylan le blocca al pub bam succede qualcosa questo succede qualcosa coinvolge Dennis Riley e poi andremo a conoscere anche Miriam Grant questi sono i nostri protagonisti Dylan Dog indaga si muove non ha bisogno ecco una cosa bella Dylan non ha bisogno dell'amore del mese in questo caso perché a volte si può anche raccontare senza far vedere per forza un Dylan che va a letto con qualcuna in questo caso non c'è Dylan indaga si muove cerca di capire di scoprire che cosa è successo ragiona si porta dietro anche Grucio per certi momenti quindi abbiamo anche due piccole come posso dire abbiamo anche un piccolo ritorno alle origini con Dylan con Grucio quando fa il giro delle scuole c'è Grucio con lui ed è molto interessante tutto questo è una caccia un serial killer un serial killer vero e proprio non stiamo parlando di qualcosa di metafisico e piano piano Dylan scoprirà il gioco delle parti scoprirà le correlazioni tra Dennis e Miriam scoprirà la vita di uno e la vita dell'altra e piano piano arriveremo a questa correlazione a inserirsi a inserirci in questo punto detto in maniera molto semplice ci sono dei cliché molto usati la fuga in macchina con l'incidente il il transfer in un certo modo non voglio fare troppi spoiler però ragazzi è tutto l'insieme è l'ensemble che scorre bene qui abbiamo sì abbiamo un chedi già sentito con questo serial killer che però rende il tutto forse anche più reale sai il manacerace di turno per quanto possa essere bello ti viene difficile pensare lo reale questo no questo potrebbe essere lo stalking il rapimento cioè ragazzi per quanto leggendo alcune scene tu ci pensi l'ho vista in qualche film forse questa l'avevo già vista certo ma probabilmente l'hai vista pure al telegiornale questo è il fatto questo rende la cosa ancora più come posso dire d'impatto e forte nei confronti di noi lettori quindi davvero complimenti non mi sento di aggiungere molto altro se non che il sovranaturale c'è è un sovranaturale secondo me molto poetico perché perché ragazzi Miriam è un personaggio che dopo l'ultima tavola tu non ce la fai a pensare che possa essere portata via in manette scusate il piccolo spoiler c'è un Dylan che viene fermato dal girl power ma non è un girl power fatto tanto per fare no ma c'è dietro un concetto di donne che difendono una donna che sì non ha la coscienza pulita ma c'è tutto un perché e deve e deve questa cosa deve anche riuscire ad andare da suo figlio quindi c'è anche il discorso dell'amor materno di quello che sarà dell'accettazione di quello che si è fatto alla fine cioè ragazzi e del perché si è fatto cioè Miriam è un personaggio veramente sfaccettato non è una non è semplice da gestire questo personaggio certo a un primo lettore magari un po' meno attento sembrerebbe un po' un buonismo femminile cioè le girl power morte che aiutano Dylan che ostacolano aiutano Dylan mettetela come volete ma non è così c'è proprio un senso di giustizia in fondo che a volte implica anche che Dylan possa non dover fare o non riuscire a fare qualcosa non voglio cioè ci sto girando attorno per non raccontarvi il finale però raga davvero è tanta roba io l'ultima tavola non potete non giuro non potete non potete non 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 commuovermi ecco commuovermi spero in un futuro di rivedere Miriam perché è un personaggio molto forte e secondo me è anche un po' vittima degli eventi quindi immagino che anche un'eventuale giuria sarebbe più gentile con lei di quello che potrebbe realmente essere e anche Charlie perché Charlie fondamentalmente è un bambino che si trova dal 100 a 0 praticamente non per colpa sua pensate padre pensate madre ecco è molto molto particolare davvero credo che sia un albo che riesce ad unire il giallo l'avventura di Lagnata l'orrore anche quotidiano anzi soprattutto quotidiano perché è un orrore reale un orrore da telegiornale che potete realmente trovare in qualunque telegiornale con quel gusto poetico che Dylan ha sempre avuto e soprattutto con quel guizzo di sovrannaturale se proprio vogliamo vogliamo usare questo termine sul finale ovvio non è nulla che non si sia mai visto prima non troverete novità narrative che vi faranno dire cacchio mai visto prima assolutamente no questo qui questo Dylan contro 150 Shock è un insieme di cliché per certi versi di narrativa è un insieme di canonicità di Lagnata ma è veramente ciò che forse oggi Dylan deve essere questo è proprio un racconto di Dylan Dog che nel 2024 funziona perfettamente motivo in più per dirvi che per me ad oggi la gestione di Barbara Baraldi è sempre più promossa davvero io faccio i miei complimenti non usiamo i termini capolavoro perché i capolavori hanno hanno un'altra accezione usiamo il termine giusto buone storie esattamente ciò che io mi aspetto da Dylan Dog esattamente il motivo per cui io vado in elicola apro il portafoglio do 5 euro e mi porto a casa questo per godermi una lettura ben fatta che sia vincente e che mi faccia capire chi è Dylan Dog tutto questo lo trovate qui dentro oggi più che mai vi dico shock una storia che la leggerete e direte cacchio ho letto Dylan Dog e vale anche per voi ragazzi che non ne avete mai letto nemmeno mezzo questa è l'occasione 450esimo numero di Dylan un gran bel numero punto